Come sei arido e aspro lontano da Gesù? Come sei sciocco e vuoto se vai dietro a qualche cosa d'altro che non sia Gesù? Non è questo per te un danno più grande che perdere il mondo intero? Che cosa ti può mai dare il mondo se non possiedi Gesù? Essere senza Gesù è un duro inferno, essere con Gesù è un dolce paradiso. Non ci sarà nemico che possa farti del male se avrai Gesù presso di te. Chi trova Gesù trova un grande tesoro prezioso, anzi trova un bene più grande di ogni altro bene. Chi perde Gesù perde più che non si possa dire, perde più che se perdesse tutto quanto il mondo. Colui che vive senza Gesù è privo di tutto, colui che vive saldamente con lui è ricco di tutto.